Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, codi a tratti per traffico tra Calenzano e Via 1 variante in direzione nord. In A11, rallentamenti ancora una volta per traffico tra Capannori e Lucca Est in direzione mare. In Fipili per lavori sale a 2 km la coda in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra. In carreggiata opposta resta a 1 km di coda, sempre per lavori tra Ginestra e Montelupo. Prima di salutarci per la canteristica sul raccordo Siana-Firenze, segneremo sono in corso lavori fino a fine luglio all'altezza di Tavarnelle con scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in ingresso e in uscita in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!